Ancora ben trovati con Milano Pavia News, edizione Pavia, vediamo insieme i principali fatti della giornata. È iniziata oggi a Pavia l'udienza preliminare sul rapimento del piccolo Aitan Bira, l'unico sopravvissuto alla strage del Mottarone. Si va verso un accordo per il risarcimento. Arrivano anche in provincia di Pavia le case di comunità, le strutture nate con la riforma della sanità regionale. In un giorno inaugurati i punti a Pavia, Belgioioso, Casorate primo. Nessun accordo sindacale per ora sul contratto di solidarietà per i 68 dipendenti della cantina sociale Terra ed Oltre Pola. La precisazione di CGL, Cisle e Will. Meno di dieci anni fa l'ospedale di Casorate prima rischiava la chiusura, oggi invece ospita così tanti servizi che la struttura non basta più e verrà realizzata una nuova palazzina. Luminari a tempo per risparmiare un tesoretto messo da parte per affrontare i rincari dell'energia e la ricetta del comune di Stradella per mettere tra feste e aumenti delle bollette. L'apertura, come avete sentito, è il caso del piccolo Itambira, l'unico sopravvissuto alla strage della funivia del Mottarone. Oggi l'udienza preliminare per il rapimento da parte del nonno materno Jmuel Peleg si va verso un accordo. Il nonno è pronto a risarcire, il nipote si parla di circa 50 mila euro per gli studi e le sue cure. Sentiamo. Si va verso un accordo con un risarcimento nel caso del rapimento del piccolo Itambira, l'unico sopravvissuto alla strage della funivia del Mottarone. Il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Pavia, Pietro Balduzzi, dovrà decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio per Shmuel Peleg, il nonno di Itambira e il suo presunto complice, Gabriela Butbul, entrambi accusati di sequestro di persone e sottrazione di minore, dopo aver prelevato il bambino dall'abitazione della Ziaia per portarlo in Israele. Ci sarebbe però già un accordo tra le parti che potrebbe aprire anche la strada a un eventuale patteggiamento del nonno con l'ok della procura. La prospettiva del patteggiamento è positiva perché significherebbe un'ammissione di responsabilità del reato contestato di sottrazione di minore, ha affermato l'avvocato Emanuele Zamalda che rappresenta la Ziaia, ammessa come parte civile. Le parti definiranno il patteggiamento e il risarcimento nelle prossime settimane, l'udienza è stata quindi rinviata al 13 dicembre. Secondo le accuse, la mattina dell'11 settembre del 2021, Shmuel Peleg e Gabriela Butbul avevano prelevato illegalmente il bambino dalla casa della Zia Travacosico Mario e lo avevano portato in Israele con un aereo privato. Ne era nato un lungo contenzioso giudiziario, conclusosi con la decisione della Corte Suprema israeliana, che aveva disposto il rientro di Eitan in Italia. Nel dicembre scorso, il Tribunale per i minorenni di Milano aveva poi deciso di nominare un tutore esterno per il bambino in sostituzione della Zia. Eitan oggi vive con la famiglia di Aia, diventata tecnicamente collocataria, in attesa che si definisca il procedimento per la sua adozione. Voltiamo pagina perché le case di comunità arrivano anche in provincia di Pavia, le strutture, ricorderete, nate con la riforma sanitaria a livello regionale. Tre i punti inaugurati nella giornata di oggi a Pavia, a Belgioioso e a Casorate Primo. Vediamo. Arrivano anche in provincia di Pavia le case di comunità, le strutture nate con la riforma della sanità regionale, con l'obiettivo di accorpare in un'unica sede diversi servizi al cittadino. In un solo giorno sono state inaugurate le strutture di Pavia, in piazzale Golgi e all'interno degli ospedali di Belgioioso e Casorate Primo. In tutte le case di comunità si possono trovare un centro unico di prenotazione, un punto prelievi, gli infermieri di comunità e diversi ambulatori di medicina generale e specialistica. La presenza degli infermieri di comunità per una presa in carico dei pazienti, non solo all'interno dell'ambulatorio ma anche a livello domiciliare. Sarà presente anche degli uffici per i medici di medicina generale che finalmente vi sarà un'integrazione tra i professionisti della salute che hanno contrattualistiche diverse ma che devono assolutamente lavorare insieme, ambulatori per le patologie prevalenti. Una particolarità è rappresentata dal centro unico di accesso per orientare il cittadino che ha bisogno di assistenza sanitaria. Nell'ufficio operano anche assistenti sociali. Dando un servizio non solo di tipo sanitario ma anche socio-sanitario, tanto è vero che all'interno di queste strutture, di queste case di comunità, troveremo anche i servizi sociali del comune che quindi in un qualche modo diciamo che potranno affrontare dall'inizio fino alla fine, seguendo nel percorso tutte quelle che sono le criticità, le esigenze che insomma si troveranno lungo il percorso. La vera sfida sarà quella di assicurare continuità alle strutture garantendo una sufficiente presenza di personale. Dalla regione ammettono le difficoltà di organico ma viene preso un impegno a migliorare le cose. Un primo passo importante è stato fatto perché sappiamo bene come negli ultimi dieci anni a livello di governo nazionale siano state tagliate le risorse economiche necessarie proprio per la sanità lombarda. C'è stato un cambio di marcia quindi il governo oggi sta ricominciando a reinvestire da un punto di vista economico. È chiaro e ovvio che bisognerà dare una svolta anche da un punto di vista di risorse umane che questo sicuramente è il tasto più dolente però il governo sta lavorando anche sotto questo punto di vista quindi ci vorrà un pochettino più di tempo, più di pazienza ma assolutamente questo è l'obiettivo. Torneremo tra poco sui temi sanitari e adesso invece sulla vertenza della cantina sociale Terre d'Oltrepo perché contrariamente a quanto affermato dall'azienda non vi sarebbe un accordo sui contratti di solidarietà a dirlo sono CGL, CISL e UIL. Sentiamo. Il sindacale per ora sul contratto di solidarietà per i 68 dipendenti della cantina sociale Terre d'Oltrepo lo precisano in modo unitario i sindacati CGL, CISL e UIL all'indomani della diffusione di un comunicato da parte dell'azienda che dava per siglata l'intesa. C'è ancora da lavorare, spiegano i sindacati. Una volta trovate le soluzioni condivise verrà nuovamente convocata un'assemblea dei dipendenti e solo dopo questi passaggi il percorso potrà ritenersi concluso. Le organizzazioni sindacali hanno infine bollato la comunicazione come un grave passo in avanti in un momento così delicato. Ieri si è tenuto un'assemblea con i dipendenti, abbiamo fatto un secondo incontro con la direzione dell'azienda, siccome ci sono ancora delle criticità e alcune situazioni che vanno sistemate e vanno anche individuate dei criteri di utilizzo dell'eventuale strumento che si andrà a concordare. Oggi i lavori sono ancora in corso per capirci. Quindi d'accordo con l'azienda stiamo già provvedendo ad andare avanti in questa direzione per cui non è ancora nulla di deciso, ma è una cosa che arriverà, però vediamo come e quando. Contratto di solidarietà per evitare dei licenziamenti che sembravano un po' così difficilmente rimandati. Diciamo che i ragionamenti che sono stati fatti fino adesso con l'azienda, la linea individuata sembrerebbe quella, però noi come organizzazioni sindacali prima di poter sottoscrivere l'accordo dobbiamo comunque avere il mandato da parte dei lavoratori e questo lo potremo avere soltanto una volta che abbiamo fatto un'ulteriore assemblea con i dipendenti, quando avremo il quadro un po' più completo, quindi quando i lavori che abbiamo iniziato adesso con la direzione aziendale saranno un po' più completi. Diciamo che se le prospettive fossero licenziamenti collettivi o contratti di solidarietà, sicuramente il contratto di solidarietà è lo strumento migliore. Detto questo bisogna fare ancora un certo percorso. Al netto dell'accordo che dunque non vi è ancora in base a quanto è emerso, la linea sembra già tracciata. Per far fronte ad una crisi dovuta in gran parte al calo di produzione 2022, da imputare soprattutto alla siccità e all'aumento dei costi di produzione e dell'energia, la cantina dovrà trovare una soluzione per ridurre le spese. Scartata l'ipotesi dei licenziamenti, la strada sarà quella del contratto di solidarietà per 24 mesi. In che misura questo si applicherà alle maestranze? Che impatto avrà a livello economico, ovvero di quanto tempo sarà ridotto il lavoro e di conseguenza lo stipendio degli operatori è quanto rimane ancora da definire. La cronaca adesso ci porta a Pavia per un incidente stradale notte scorsa intorno all'alba tra via Gilardelli e via Le Sardegna coinvolti tre giovani rimasti feriti. Sentiamo che cosa è successo. L'auto che sbanda a forte velocità subito dopo il semaforo poi colpisce due macchine parcheggiate e finisce la sua corsa in mezzo alla carreggiata. Pauroso incidente nella notte a Pavia tra via Gilardelli e via Le Sardegna a poche centinaia di metri dal centro città. Lo schianto è avvenuto attorno alle 5 in un tratto di strada solitamente piuttosto trafficato ma che vista l'ora era praticamente deserto. A bordo della macchina c'erano tre ragazzi, due diciannovenni e un ventenne che forse stavano rientrando a casa dopo una serata passate insieme. Secondo una prima ricostruzione la loro auto, una Renault Clio, stava arrivando da via Tasso quando il giovane alla guida ha perso il controllo. La Clio ha sbandato e si è andata a schiantare contro due macchine parcheggiate davanti al bar giallo. Nell'incidente uno di loro, il ventenne, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è caduto al suolo. Sul posto in pochi minuti sono arrivati i soccorsi, due ambulanze del 118, assieme agli agenti della polizia stradale. Il ventenne è stato stabilizzato e poi trasferito d'urgenza al pronto soccorso del San Matteo. Le sue condizioni sono gravi e il giovane si trova ora ricoverato in rianimazione. Più lievi invece le ferite per gli altri due ragazzi, anche loro portati in policlinico per accertamenti. Via Gillardelli è rimasta chiusa per circa due ore fino alle sette e mezza per consentire ai mezzi di soccorso di liberare le carreggiate. Sulla dinamica dell'incidente sta ora indagando la polstrada. Ancora Pavia, ancora la cronaca per un nuovo caso di truffa. Questa volta la vittima è un anziano sacerdote proprio della diocesi di Pavia. Un'estorsione da 20.000 euro è stato raggirato l'uomo mentre pensava di aiutare un signore alle prese con il figlio malato. Padre, mi aiuti, mio figlio è gravemente malato e non abbiamo i soldi per curarlo. La truffa da 20.000 euro è iniziata così e la vittima, un anziano sacerdote della diocesi di Pavia, ha fatto quello che gli suggeriva il cuore. Ha iniziato a versare denaro al presunto genitore disperato, arrivando a fornirli alla fine, tramite diverse ricariche poste pay, una cifra di simile rilievo. Quando il prelato, insospettito, ha sporto denuncia in questura. Ormai era troppo tardi per recuperare il denaro, ma le indagini, serrate e condotte dagli agenti della squadra mobile, hanno fatto centro in breve tempo identificando il truffatore che è stato denunciato a piede libero, dopo che, a casa sua, si è trovato parecchio materiale che dimostrava la sua colpevolezza. Ma non è tutto. Dalle indagini è emerso che non soltanto lui era una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, anche la sua compagna era schedata, come lui, per truffe o più, tecnicamente, reati predatori contro le fasce più deboli. Proviamo l'apertura dell'inaugurazione delle case di comunità in provincia di Pavia, tra queste anche a Casorate Primo e proprio da Casorate arrivano buone notizie sul fronte dell'ospedale. Fino a qualche anno fa era rischio chiusura, adesso invece verrà ampliato. Meno di dieci anni fa l'ospedale di Casorate Primo rischiava la chiusura. Con l'abbandono del blocco operatorio, un centro di alisi che, seppur finanziato, non veniva mai costruito perché, impantanato nell'immobilismo della politica, il destino sembrava segnato. Oggi, invece, il Carlo Mira ospita talmente tanti servizi che lo spazio, nella storica e comunque vasta struttura, non basta più, tanto che nei prossimi mesi verrà realizzata una nuova palazzina. La storia di questo ospedale racconta di una rinascita voluta fortemente dal territorio. A manifestarsi dello spettro della chiusura, infatti, ci fu una forte reazione dell'opinione pubblica e della politica locale che ha portato risultati. Si iniziò nel 2016 proprio dall'apertura di quel centro di alisi che sembrava essersi perso nella nebbia della burocrazia. Poi, anno dopo anno, l'attivazione di ulteriori servizi fino all'inaugurazione della Casa di Comunità. E non è finita qui perché nei prossimi mesi nascerà il nuovo reparto per subacuti e, appunto, la nuova palazzina. La rivalorizzazione della nostra struttura ospedaliera che, avendo ricevuto questi finanziamenti che ormai sono circa 5 milioni, per ristrutturare sia il polo emulatorio, il cupo, il punto per lievi e un reparto di subacuti che sarà il secondo piano della struttura, che è stato cantierato e quindi proseguirà gli lavori per renderlo, diciamo, puntualmente efficiente tra probabilmente il prossimo anno, il prossimo esercizio. E con i due milioni ultimi che sono pervenuti ci sarà una palazzina all'interno del parco e dell'ospedale dove lì crescerà una struttura con circa mille metri quadri per raccogliere tutta l'attività territoriale. Questo è un risultato importante per la nostra comunità e per le comunità vicine perché si potenzierà tutta l'attività territoriale di assistenza ai pazienti. Torniamo a parlare dei rincari che riguardano da vicino anche le grandi aziende, il caso di Pavia Acque, dove i costi dell'elettricità soltanto nel 2022 sono passati da 9 milioni a 30 e sono attesi ulteriori rincari per il prossimo anno, ma l'azienda ha messo in campo alcune contromisure. Anche le grandi realtà come Pavia Acque devono fare i conti con il caro energia. La spesa annua per l'elettricità, spiega la Presidente Imparato, è passata da 9 a circa 30 milioni di euro per il 2022 con una previsione di circa 33 milioni per il prossimo anno. Per questo motivo l'azienda si è mossa in anticipo, prevedendo investimenti per 4 milioni di euro, così da autoprodurre e disporre di circa 2 megawatt di energia da fonti rinnovabili per i prossimi anni. E anche la nuova sede è stata realizzata con una forte attenzione al risparmio energetico. Un esempio di impegno da parte di Pavia Acque è stata la realizzazione e la progettazione della nuova sede in ottica green. La nuova sede è dotata di un sistema di condizionamento basato su energia termica e quindi non con utilizzo di gas metano, l'utilizzo in tutta la sede di lampadine LED con un sistema di automazione dell'energia luminosa. Le superfici esterne impermeabilizzate sono state progettate affinché lo scarico delle acque meteoriche non avvenga in pubblica affognatura ma negli spazi verdi. Un altro importante strumento portato avanti in tema di efficientamento energetico da Pavia Acque è l'utilizzo del telecontrollo che verrà esteso su tutti gli impianti della provincia di Pavia. Grazie al telecontrollo riusciremo a tenere sotto monitoraggio gli impianti e in caso di anomalie intervenire tempestivamente riducendo quindi i consumi. Gli investimenti di efficientamento energetico sono già in corso da anni anche su diversi impianti del territorio dove sono stati posizionati i pannelli fotovoltaici e dove Pavia Acque ha installato apparecchiature elettromeccaniche più performanti in modo da ridurre al massimo gli sprechi. Già da diversi anni, dal 2020, è stato adottato un sistema di gestione dell'energia proprio per efficientare i processi aziendali legati ai consumi elettrici. Oltre a questo Pavia Acque sta centralizzando a livello provinciale l'acquisizione delle principali forniture come pompe e soffianti che rappresentano le componenti più energivore dei nostri impianti. Il tema dell'autoproduzione di energia elettrica da diversi anni sta portando Pavia Acque a sfruttare al meglio gli spazi, le coperture e le dotazioni impiantistiche. Ad oggi risultano installati ad esempio un impianto di produzione mediante biogas con tre microturbine al depuratore di Pavia per una produzione annua di circa 440 megawattora e cinque impianti fotovoltaici. Nei prossimi anni questi impianti arriveranno a 11 tenendo conto delle lavorazioni in corso su alcuni cantieri, quindi raggiungendo e superando i 500 kilowatt di potenza installata. E poi ci sono i comuni che devono far fronte ai rincari delle bollette da un lato e dall'altro o comunque provare in qualche modo ad addobbare il Natale senza rinunciare alle luminari. Vediamo il caso di Stradella. Luminari a tempo per risparmiare una montagna di soldi messi da parte per affrontare un anno il 2023 in cui il comune si aspetta una bolletta almeno doppia rispetto agli anni scorsi, da 1 a 2 milioni di euro circa a causa dell'aumento del prezzo dell'energia. Così dopo due anni di pandemia, Stradella si prepara ad un Natale che avrebbe dovuto essere quello della rinascita e invece dovrà fare i conti con una situazione economica generale ancora molto difficile per accendere le luci in città. Il comune ha stanziato circa 11 mila euro in totale mentre la parte restante della spesa per le luminarie toccherà i commercianti che pure dovranno versare meno della metà degli anni passati, da 70 a 30 euro, ha spiegato il vice sindaco Dino Di Michele. Quest'anno è un anno in cui bisogna fare sacrifici, è chiaro che le luminarie natalizie sono comunque un momento di vita della città, come in tutte le cose bisogna spendere il giusto, quindi quest'anno abbiamo speso meno, sono stati destinati meno soldi per queste cose, però comunque avremo una città comunque viva, illuminata. Stradella si aspetta di spendere il doppio rispetto allo scorso anno per il 2023, così? Sì, abbiamo fatto delle proiezioni abbastanza precise, accurate, abbiamo inserito ormai nei conti che presenteremo nel bilancio di previsione dei conti assolutamente prudenziali, quindi abbiamo tenuto conto di costo di energia abbastanza alto, per cui riusciremo a fare fronte agli aumenti che ci saranno, ma comunque sia abbiamo, come in tutte le cose, utilizzato un criterio prudenziale. Stiamo chiaramente facendo anche da tempo un percorso di spending review, comunque di vedere in tutti i casi dove possiamo recuperare dei risparmi, quindi coinvolgendo sia il discorso del comune, degli uffici, ma anche il discorso delle associazioni, delle palestre, palazzetti, stadi, insomma un po' con tutti, stiamo cercando di capire dove si può risparmiare, si vedrà poi quello che si riuscirà a fare. Speriamo di non riuscire, di non dovere poi andare a tagliare orari di illuminazione pubblica o cose di questo tipo, se ci sarà necessità lo faremo, ma per il momento abbiamo delle coperture sufficienti. Se da una parte insomma si cerca di risparmiare dove si può, dall'altra proseguono i progetti per rendere più efficienti a livello energetico le strutture pubbliche, dopo quelli conclusi sulle scuole, sul palazzetto dello sport, lavori per circa un milione di euro dovrebbero prendere il via con l'anno nuovo nel palazzo comunale. Proseguiamo con la politica con una notizia che abbiamo in parte anticipato ieri e per cui è arrivata l'ufficialità, proprio in questi minuti si comunica da parte del Comune di Pavia che il Sindaco Fracassi ha segnato in dato di anno alla delega alle pari opportunità l'assessore Mara Torti, ringrazio il Sindaco per la fiducia, l'assessore Longo che ha portato avanti l'assessorato in modo attivo promuovendo proficue collaborazioni con gli enti interessati, sono le prime parole dell'assessore, profonderò il mio impegno al fine di portare avanti i progetti intrapresi e di cogliere le nuove opportunità per l'assessorato, le parole appunto del nuovo assessore alle pari opportunità Mara Torti. In tema di politica si avvicinano anche le regionali e arrivano le prime candidature ufficiali, è il caso del Sindaco di Sant'Angelo Lomellina Grossi che andrà con Letizia Moratti. Sentiamo. I grandi movimenti al Pirellone con la nascita del gruppo del Terzo Polo in Consiglio regionale interessano anche la provincia di Pavia. Esce allo scoperto con largo anticipo il primo candidato alle regionali del 2023. È il Sindaco di Sant'Angelo Lomellina Matteo Grossi che ha annunciato la sua partecipazione alla competizione elettorale al fianco di Letizia Moratti. In suo esordio, accanto a temi più tradizionali, mette in risalto una questione di cui si parla poco ma che sarebbe di competenza regionale, la necessità di pulire i fiumi dai detriti. Abbiamo fatto mesi e mesi e mesi di siccità, non abbiamo avuto il coraggio di andare a parlare, di andare a dialogare, battagliare con quegli ambientalisti, quelle persone che dicono sempre no a tutto. Noi era il momento giusto per andare nei fiumi, che non ci bollevamo neanche un dito, e pulire i fiumi dai detriti. Ed è comunque una cosa che dobbiamo rimettere a capo, intanto anche perché è per i soccorsi, perché da vigile del fuoco posso dire che il soccorso in acqua è importante e bisogna risolverlo. E poi anche perché se andiamo a vedere che cosa è successo mesi fa nelle Marche, insomma anche loro sono resi conto che si poteva rimediare pulendo prima i fiumi. Tra le proposte di Grossi è anche la digitalizzazione della scuola con la completa sostituzione dei libri con i tablet. Non manca infine un riferimento alle carenze della sanità lombarda in termini di liste d'attesa e presenza di medici di base sul territorio. Abbiamo la sanità che è eccellente, abbiamo degli ospedali che ci invidono in tutta Europa, parliamo di ospedali del Milanese, del Pavese, però poi alla fine non è quella solamente la buona sanità. Buona sanità vuol dire anche snellire le liste d'attesa, non per curarsi, ma per capire perché devo curarmi e poi quando arriviamo alla fine ci dicono doveva arrivare un po' prima. Sono delle file interminabili e poi significa anche tagliare, provare a tagliare anche quelle file che si trovano fuori dagli ambulatori perché in Lombardia, come in tutta l'Italia, mancano i medici. Tematica ambientale in primo piano anche a Mortara dove una delegazione dell'Associazione Futuro Sostenibile di Lomelina ha incontrato il sindaco Geroso e l'assessore all'ambiente Olivelli. L'Associazione ha voluto segnalare al Comune le criticità su cui ritiene ci si debba prestare attenzione tra i temi dell'incontro, l'assenza di una centralina per il controllo dell'aria, la richiesta di uno studio epidemiologico e di un piano di monitoraggio dei campi elettromagnetici. L'Associazione infine chiede particolare attenzione al Comune perché partecipi in maniera attiva agli incontri istituzionali in caso di richieste di autorizzazioni di impianti di rilevanza ambientale. E questa era anche la nostra ultima notizia. Io vi ricordo gli appuntamenti della prima serata con Politica alla Parola, il nostro direttore Stefano Calvi e poi qui a Regione con tutti gli aggiornamenti da Regione Lombardia. Grazie a tutti.